Ciao a tutti, come state? Io sto bene, si continua a vivere. Oggi vi vorrei parlare di come superare il test d'ingresso alla Naba, perché sto facendo questo video? Sto facendo questo video perché quando io ho dovuto fare il test d'ingresso alla Naba, a parte le informazioni che mi ha dato appunto la Naba, con il brief, con tutte le indicazioni, ogni cosa dovevo fare, cosa non dovevo fare, su internet non ho trovato nulla, nulla. Io ero tipo disperata perché cercavo qualcuno che avesse passato l'esame, cercavo qualcuno a cui chiedere, cercavo delle informazioni, delle notizie in più da sapere magari che mi potessero aiutare in questo evento della vita, perché comunque è pur sempre un esame e quindi niente, sono qua a rispondere a qualche dubbio che io mi ero posta un anno fa ormai. Allora, l'esame d'ingresso, il test d'ingresso alla Naba si può fare, vi parlo dell'anno in cui l'ho fatto io, cioè nel 2019, si poteva fare a marzo, a luglio, a settembre, erano tre? Erano questi tre? Pensi sì. Io ho scelto di farlo a marzo perché a luglio era estate e comunque c'erano gli esami in mezzo, un casino allucinante, quindi ho detto non c'è motivo, e a settembre non puoi o non potevi, non lo so, penso che ancora sia così, non potevi ricevere la borsa di studio, quella che dà la Naba stessa. E quindi ho detto lo faccio a marzo, così comunque non essendo nel pieno delle interrogazioni, riesco anche a viaggiare, andare a Milano senza problemi, riesco a fare il brief, riesco a fare tutto con calma, ed è quello che vi consiglio io di fare almeno. Ed è quello che so, è comunque la sessione più piena, lasciatevi passare il termine di persone, molte più persone tendano a marzo, da quello che so io, a marzo e a settembre, poi a settembre gli indecisi iniziano ad andare, a decidere che cosa fare, però se sapete già che volete andare in Naba, io vi consiglio di provarci a marzo, così siete più liberi poi per gli esami e tutto, cioè di solito parlo con coloro che hanno gli esami e tutto, cioè consiglio mio personale. Allora, vi faccio l'esempio di media design, vi racconto esattamente quello che ho fatto io. Per gli altri indirizzi, sinceramente, non ho idea di che cosa si faccia, quindi mi dispiace se siete entrati qua. Vi posso dare altri consigli in generale, ma nello specifico sarà media design, che è quello che faccio io. L'esame può essere in due modi, o la modalità A e la modalità B. Vi dico già che io ho fatto la modalità B, perché la modalità A prevede che tu abbia un portfoglio, quindi già dei lavori fatti, quello che hai fatto tu, non è un vero e proprio esame, praticamente porti quello che hai fatto, dici quello che sai fare e tutto, quindi ti presenti, ti esponi in questo modo qui, ma io venendo da una ragioneria e non avendo mai fatto nulla, non avrebbe avuto motivo, non avrebbe avuto senso che mi presentassi con il metodo A, cioè, cosa presentavo i miei video su YouTube, fine, non presentavo nient'altro, quindi direi che non è il caso. Se non venite da un liceo artistico multimediale, aggiungo, se non siete già dei videomaker, lasciate perdere la modalità A, almeno quello che vi consiglio io. Se sapete fare qualcosa di veramente figo, allora sì, se no, lasciate perdere. La modalità B consiste nel avere un'idea, un progetto, quindi non è necessario realizzarla come ho fatto io, perché alla fine io il video l'ho fatto e lo trovate sul canale, se scrivete cortometraggio sulla solitudine, comunque ve lo metto qua da qualche parte. Non è necessario, almeno quando ho fatto io l'esame, realizzare l'idea, ma loro appunto chiedevano o un cortometraggio di massimo 10 minuti, o un'animazione, o un documentario, oppure l'idea appunto per un film, per un lungometraggio. Quindi loro ti chiedono l'idea su una di queste quattro cose, che scegli tu, su un tema che scelgono loro. Nel mio caso è stato il tema della solitudine, ma so che sono stati affrontati tantissimi temi, tipo l'inguinamento, la plastica, so di tantissimi temi che sono stati affrontati negli anni precedenti. Quindi loro, 15 giorni prima dell'esame, mi mandano il brief con tutte le regole, con tutte le linee guida da seguire, dove è spiegato tutto, quindi non mi sto qua a spiegare esattamente com'è. E principalmente vogliono che, allegate le fondi a cui fate riferimento, quindi link di blog, video su YouTube, firme, eccetera. Lo storyboard è il trattamento e il soggetto. Lo storyboard, se siete già in questo campo, sapete benissimamente che cos'è. Io, che non avevo mai toccato nulla di tutto ciò, non sapevo nulla, quindi sono partita completamente da zero. È stato difficile? Sì, è stato stra-mega difficile. Lo storyboard è praticamente, magari ve ne metto un esempio qua, dovete disegnare la vostra regia, dovreste trasferire su carta l'idea che avete in destra, delle inquadrature, delle riprese, delle immagini. Io ancora non sapevo storyboardare i tempi e l'ho fatto con le foto. Ovvero, prima ho realizzato il cortometraggio, poi ho estratto le foto. Cosa che non si fa, errore madonnale, perché lo storyboard si fa prima, perché devi prevedere prima le cose, non dopo che le hai fatte. Non funziona così. solo che se siete un po' nico il disegno esattamente come me, vi consiglio di farlo con le foto, se riuscite viene molto meglio. Io non ho, dannazione, una foto del progetto che ho portato io. Purtroppo l'ho perso per sempre. È una cosa che mi dispiace molto, mi sarebbe piaciuto averlo, tenerlo. Comunque, lo storyboard appunto richiede l'idea della vostra sceneggiatura visiva. Sostanzialmente è quello, deve arrivare ad un impatto, deve avere un impatto forte e se non sbaglio, dovevo avere sei vignette di storyboard massimo. O comunque, se non era nella regola, io ne ho portate sei. Poi, altro elemento è il trattamento e il soggetto. Il trattamento, è il soggetto, partiamo dal soggetto, è il riassunto della vostra storia, che non mi ricordo quando doveva essere massimo, ma comunque ve lo scrivono. Io avevo scritto una storia molto breve e poi il trattamento è lo sviluppo del soggetto, quindi è l'amplificazione del soggetto, inserire altri dettagli. La cosa più importante è, secondo me, il soggetto, dovete congelarvi tanto su riassumere, per loro è fondamentale riassumere. E nulla, sostanzialmente vi chiedono di fare queste cose. È fondamentale, cosa che io vi consiglio di fare, perché mi hanno detto che io ho sbagliato, cioè, non è che ho sbagliato, che potevo fare, è quella di portare le fondi, perché vi chiedono di appiccicare, vi chiedono di mettere tutte queste cose che voi fate su un foglio a 5, a 4, a 2, lo so, quelli abbastanza grandi, quindi non è a 4, non mi ricordo. Immaginatevi io con questo foglio a, non mi ricordo cosa, dalla Sicilia fino a Milano, pazzia, vogliono che appunto voi ingollate tutto il trattamento del soggetto, lo storyboard su questo foglio insieme alle fondi che voi chiedete, a cui avete fatto riferimento, disegni, foto, tutto quello che volete. Loro vi lasciano libera creatività, ma perché è l'imbronda della nabba. Raga, la nabba vi lascerà sempre, dico sempre, libera nell'idee, ovvero, loro magari vi danno la linea guida, ma l'idea dovete averla voi. Non è una scuola tecnica, non vi dicono fai così per ottenere X, non ve lo diranno mai, cioè sì, vi posso insegnare parte della tecnica, ma l'idea creativa, l'idea in primis dovete averla voi. Non c'è nulla da fare, la cosa fondamentale è appunto avere idee, tante, ma tante idee, belle, brutte, piccole, grandi, l'importante è essere pieni di idee, almeno quello che ho capito io stando sei mesi in nabba. Una volta pronto tutto ciò, aspettate il vostro turno, il giorno dell'esame, molto tranquillamente, ragazzi, fallissimi, sarà una chiacchierata, almeno con me è stata una chiacchierata, con uno o due professori massimo. io ho parlato con due professori, che non mi ricordo, se non sbaglio fanno game design, questi professori quindi neanche li ho, mi hanno chiesto di sporre la mia idea, volevo subito farla vedere, ma loro mi hanno detto che è fondamentale prima esporla, quindi preparatevi prima il discorso che volete fare, andate lì sicuri, mostratevi sicuri di quello che volete fare, e non mostratevi timidi, tra virgolette, comunque cercate di essere diretti e sicuri di voi stessi, anche se poi non lo siete, voi all'esame cercate di essere sicuri di voi stessi, perché è un artista fondamentale, che deve essere sicuro di sé, di quello che porta delle sue idee, non importa, anche se fanno schifo, ma non è vero, le idee non fanno mai schifo, no scherzate, o alcune idee che ho avuto io fanno schifo, dovete essere sicuri di voi quando parlate, e comunque, non so se avete fatto l'esame di maturità, o lo dovrete fare, sarà la stessa cosa, nel senso che, se vi siete preparati, se avete preparato tutto, voi arrivate lì e parlate, e neanche ve ne rendete conto, uguale, la stessa identica cosa, almeno è quello che è successo a me, all'esame di maturità, ed è successo anche all'esame di ammissione alla NABBA, uguale, mi sono preparato, ho detto le cose che dovevo dire, loro non mi hanno manco fatto domande, tipo, chi sono i tuoi registi preferiti, preparatevi anche queste robe qui, anche perché io non le avevo preparate, cioè io lì sono arrivata molto, random, ecco, non avevo il concetto di regista, il concetto di film, di chi, io sono andata lì, perché mi piace fare video, fine, non mi ero preparata nulla, e ce l'ho fatta, quindi come ce l'ho fatta io, ce la potete fare voi, ma penso che questo discorso, valga per tutte le arti che ci sono in NABBA, da arti figurative, a design, a qualsiasi cosa, mostratevi sicuri di voi stessi, mostratevi convinti della vostra idea, se cercano di distruggervela, voi ribattete, dovete essere proprio forti, e portare avanti le vostre idee, perché è fondamentale, vogliono anche questa cosa, che voi portate avanti le vostre idee, basta, penso che sia finito, quello che vi posso dire, è di armarvi di pazienza, di tanta buona volontà, di eliminare sempre le prime idee, che non sono mai le migliori, consiglio personale, il mio prof dice che, fino alla settima idea, non va bene, dall'ottava in voi, si inizia a parlare di cose serie, di nulla, vi auguro buona fortuna, per preparare gli esami di ammissione, che quest'anno credo siano online, non ho idea, non so se quest'anno qualcosa si è cambiato, ma in ogni caso, l'idea di essere sicuri di si stessi, rimane sempre, e di portare avanti le proprie idee, rimane sempre, per qualsiasi cosa, siete sicuri di voi stessi, e sono sicura che ce la farete, mille per mille. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un po' liggio in su, se avete altre domande, riguardante la Napa, cosa si studia, cosa non si fa, come funziona, scrivetemi qua sotto, nei commenti, oppure nei direct di Instagram, rispondo a tutti, se avete altre domande, quindi scrivetemi, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!